E di Social Network è un'altra occasione importante per riportare al centro il dialogo e il confronto tra tutti gli attori della filiera del progetto ovviamente. FIARA tra l'altro è molto interessante che sta rivelando veramente un palcoscenico molto importante per quello che riguarda il mondo dei professionisti. Si tratta di qualcosa di davvero innovativo che interessa anche la proprietà immobiliare. Sono stati inseriti all'interno fondamentalmente due tematiche. Una è quella della progettazione, l'altro core della fiera è quello legato alla realizzazione dei progetti che si interconnettono e in generale di un'economia circolare che sia in equilibrio. Certamente c'è un tema legato al biofilico, legato a un'evoluzione di progettazione verso la sostenibilità al pianeta. C'è un tema legato al pianeta. C'è un tema legato al pianeta.